ragazzi il proiettore sta funzionando però la pellicola è a testa in giù devo riuscire a capire come metterla bene lì sta proiettando il film ora c'è il flash vedete come funziona il proiettore lui qui c'è la pellicola che gira si tira il premio qui dentro la pellicola esce da qui sotto e va rotolata in quest'altra e lui un volta che sa la tira lo proietta qui c'è lo zoom e niente ora ho messo la pellicola al contrario ho capito che questa parte qui e sotto mentre poi per girarla per farla vedere è giusto mi devo a devo capovolgere ciao 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 ciao